I ministri dell'interno di Francia e Regno Unito hanno firmato un accordo per il rafforzamento della collaborazione nella lotta all'immigrazione clandestina e nella gestione comune della sicurezza a Calais. Bernard Casneuve e Theresa May si sono incontrati nella cittadina del nord della Francia in cui sono accampati circa 3.000 migranti che spesso tentano di passare la manica illegalmente. Casneuve ha sottolineato che il numero di infiltrazioni nel tunnel si è ridotto a un decimo nelle ultime settimane grazie alle misure disposte dai due paesi. Oggi Londra ha promesso di contribuire con altri 10 milioni di euro in due anni alla gestione dei migranti a Calais, molti dei quali verranno spostati in altre località in attesa dell'esame delle loro richieste d'asilo.